Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura, torniamo ad occuparci dell'omicidio di San Polo perché emergono i primi risultati dell'autopsia sulla salma di Gezim Dodoli, vediamo. Quattro colpi di fucile da caccia hanno centrato Gezim Dodoli, albanese 59enne, dei cinque sparati contro di lui da Sandro Mugnai, 53enne a retino, la cui casa veniva assalita dai colpi di Ruspa. Lo ha confermato l'autopsia eseguita al Policlinico Le Scotte di Siena, per i risultati definitivi dell'esame invece occorreranno 90 giorni. Mugnai, anche in base all'autopsia, quella terribile notte del 5 gennaio ha rivolto a terra il primo colpo della sua carabina, nel tentativo di dissuadere il 59enne dal continuare la sua opera di distruzione della colonica. Poi i quattro colpi esplosi contro l'uomo, tre spari lo hanno colpito all'addome, uno alla spalla. Alla base del gesto ci sarebbero state liti tra vicini che andavano avanti da anni. Lunedì sarà poi eseguita la perizia balistica sulla carabina per la calcia al cinghiale, regolarmente detenuta, con cui Mugnai ha sparato. L'esame è stato assegnato dalla procura di Arezzo Arracis dei Carabinieri di Roma. Poi le carte torneranno sul tavolo della PM Laura Taddei, che dovrà decidere se chiedere l'archiviazione per legittima difesa oppure andare avanti nell'inchiesta. Nei giorni scorsi il GIP del Tribunale di Arezzo, Giulia Soldini, aveva rimesso in libertà Sandro Mugnai dopo l'udienza di convalida dell'arresto. Secondo il giudice avrebbe agito per legittima difesa per difendere le sei persone che erano in casa con lui, non potendo fuggire all'esterno. La casa resta ancora inagibile, saranno ulteriori sopralluoghi tecnici a stabilire se sarà recuperabile. Per questo a San Polo il parroco ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la famiglia. Ancora cronaca, serio incidente oggi pomeriggio intorno alle 16 sul raccordo Arezzo Battifolle coinvolta una moto con in sella un ragazzo di 22 anni che è rimasto ferito. A seguito dello scontro è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento del ferito. L'episodio è avvenuto all'altezza dell'incrocio di San Giuliano. Lunghe code si sono formate immediatamente dopo l'incidente. Il traffico è rimasto bloccato. Sul posto sanitari dell'emergenza urgenza e forze dell'ordine per i rilievi di legge. Il 22enne è stato caricato a bordo di un'ambulanza per poi essere accompagnato al Pegaso atterrato alla piazzola dell'ospedale San Donato. È stato poi trasportato all'ospedale di Siena in codice giallo. E sempre nella giornata di oggi si è verificato un altro incidente questa volta in sella ad una bicicletta rimanere ferito un uomo di 48 anni durante un'escursione nei pressi di Pomaio sulle colline fuori ad Arezzo. L'infortunio è avvenuto lungo il sentiero che porta verso San Severo. L'allarme è stato dato intorno alle 11.45 ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso 1. Sul posto oltre ai mezzi dell'emergenza sanitaria presenti anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo. Ha attivato anche il personale del soccorso alpino. Dopo il recupero il 48enne ferito è stato portato all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. E i vigili del fuoco di Arezzo sono dovuti intervenire questa mattina intorno alle 7.30 lungo l'autostrada del Sole. Al chilometro 346 in direzione nord un furgone ha infatti preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto due automezzi che hanno provveduto a domare l'incendio con il traffico bloccato proprio per consentire le operazioni di spegnimento che poi è tornato regolare. non risultano persone ferite. E adesso vi raccontiamo la storia fortunatamente a lieto fine di Michele Scotto, giovane colpito da arresto cardiaco lo scorso anno all'Equestrian Center. Ad un anno di distanza lui sta bene ma ha dovuto rinunciare allo sport da agorista. Vediamo il servizio di Chiara Sadotti. Il 7 gennaio ricordo tutto, è impresso nella mente. Un giorno molto molto difficile e intenso. Non ricordo neanche il giorno prima, ricordo soltanto quando mi svegliai poi in terapia intensiva in ospedale. Però a parte quello ricordo veramente nulla. Era il 7 gennaio 2022 quando Michele andò in arresto cardiaco mentre era a cavallo. Oggi a distanza di un anno fortunatamente Michele sta bene ma a causa del malore ha dovuto dire addio al mondo dell'equitazione. È iniziato una sorta di nuovo capitolo diciamo perché prima facevo tutt'altro poi mi sono ritrovato a non poter più fare quello che facevo da ormai 13-14 anni. Michele all'epoca 16enne, promettente cavaliere, ebbe un malore all'Equestrian Center di San Zeno. Era in sella al suo cavallo, Hercules, quando improvvisamente stramazzò al suolo. Era in arresto cardiaco. All'interproviso arriva questa telefonata che ci dice che Michele è in terra, privo di sensi. Da lì parte la corsa e arriviamo qui e troviamo l'ambulanza, l'elicottero, tutto intorno a Michele. La dottoressa che l'ha defibrillato, la prima cosa che disse, ora è in sicurezza ed è salvo. Furono quelle parole rassicuranti, diciamo così, che però rassicuravano fino a un certo punto. Provvidenziale l'intervento di due giovani formati che prestarono soccorso a Michele praticando il massaggio cardiaco sino all'arrivo del personale medico del 118. Sono stato, tra virgolette, miracolato perché c'erano due ragazzi che sapevano fare il massaggio cardiaco e quindi sono stato salvato da loro. Questo è un grandissimo vantaggio iniziare il massaggio perché permette di guadagnare tempo ai soccorritori perché il massaggio cardiaco mantiene la perfusione degli organi, soprattutto lo stesso cuore ma anche cervello, rene e fegati, che sono gli organi nobili che vanno comunque perfusi. Ci deve arrivare l'ossigeno. La fortuna ha voluto che nei presi ci fosse un'automedica che rientrava da un servizio effettato e immediatamente deviata. In tre minuti sono arrivati lì, hanno scaricato due volte il ragazzo ed ha ripreso un ritmo, il famoso ROSC si chiama noi, ma ha ripreso un ritmo cardiaco normale. Poi il trasferimento con l'elisoccorso Pegaso alle scotte ed infine l'impianto di un defibrillatore sotto cutaneo. Quel giorno ci fu però un grande assente al centro ippico, il defibrillatore. Oggi gli strumenti salvavita presenti sono invece due. C'è una legge specifica sia dello Stato che regionale che prevede che le amministrazioni comunali facciano i controlli sui propri impianti sportivi e dove si fa attività sportiva agonistica o non agonistica ci sia la presenza del defibrillatore, ma non solo, ci devono essere anche persone quando si fanno attività sia allenamenti che partite eccetera, ci siano persone abilitate all'utilizzo del defibrillatore. Questo dice la legge. Da quel giorno Michele è stato sottoposto ad infiniti esami, alcuni dei quali anche particolarmente invasivi. Siamo andati a fondo su tutto quello che si poteva fare, dagli esami più semplici a quelli più invasivi e pericolosi, proprio per capire realmente cosa fosse accaduto quel giorno. Al momento non abbiamo ancora risposte. L'unica risposta positiva è che il cuore di Michele è sano. Michele è sano, non amo alformazioni né malattie genetiche, il che vuol dire via libera all'attività sportiva, ma non agonistica proprio per quel defibrillatore impiantato, perlomeno in Italia. Tanto sono importanti i cavalli? Tanto, perlomeno lo sono stati tanto. Sono ancora oggi in maniera? Beh sì, sicuramente. Michele non si è comunque mai arreso e ha deciso di ripartire da Fogliano, dove il prossimo 2 febbraio aprirà un locale. Proprio con quello che è stato un po' l'ultimo dono dell'equitazione, quello che è stato il ricavato della vendita del cavallo, e che ha deciso di investire in questa nuova attività, ma per dare vita a una piazza che ormai era spenta di Fogliano. Quindi è proprio un segnale di rinascita anche di quella piazza. Speriamo un altro periodo più che positivo. Proprio a Fogliano, Michele donerà anche un defibrillatore. Perché è un qualcosa che quel giorno è mancato a Michele, è un qualcosa che riteniamo fondamentale. Al di là della conoscenza personale... Era il 7 gennaio 2022 quando Michele andò in arresto cardiaco mentre era a cavallo. Oggi, a distanza di un anno, fortunatamente, Michele sta bene, ma a causa del malore ha dovuto dire addio al mondo dell'equitazione. Torniamo alla pagina di Cronaca. Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Fogliano della Chiana per truffa. I militari sono risaliti a lui dopo un'attività di indagine nata in estate dalla segnalazione di un cittadino di 50 anni, residente appunto a Fogliano, che in assoluta buona fede aveva consentito all'acquisto, tramite il profilo Instagram, di vari abiti e accessori. Ma nonostante la ricarica di 160 euro sulla post-pay del presunto venditore, i beni attesi non gli sono mai stati recapitati. I carabinieri sottolineano l'importanza di denunciare questo tipo di episodi perché, spiegano proprio i militari, con le moderne tecnologie in possesso dei reparti carabinieri è possibile risalire a chi commette questi deprecabili reati. E adesso torniamo ad Arezzo, al via oggi la 25esima edizione di Arezzo Classic Motors, l'evento dedicato alle due e alle quattro ruote d'epoca, in programma fino a domani ad Arezzo Fiere. Oltre 230 gli espositori in arrivo e tantissime novità. Vediamo. Vedo che il successo maggiore ce l'abbia la parte di scambio e di acquisto di pezzi di ricambio. Ognuno di noi ha nel garage una vecchia macchina. Ad esempio ora sto cercando il libretto di uso e manutenzione di un Land Rover. Torna ad Arezzo Fiere e Congressi, Arezzo Classic Motors, l'esposizione di moto d'epoca. Una particolare sezione è dedicata alle auto della Polizia di Stato. Sì, sono veramente molto contenta che la Polizia sia presente con molti esemplari in questa manifestazione che raccoglie così tanto consenso. I nostri esemplari, le nostre macchine ripercorrono un po' la storia della Polizia e quindi direi che è un miaggio oltre che professionale e sentimentale perché partiamo dalla Pantera, dalla famosa Giulia Nera che vediamo qui fino ad arrivare all'ultima Lamborghini che svolge anche un servizio sociale per il trasporto rapido di organi da una città all'altra. Tutto quello che ha a che fare con l'automotive in Italia negli ultimi 60 anni qui si trova. Quindi è una manifestazione veramente importante che ha un successo molto 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 forte e spero che sia anche uno dei ganci che possa aiutare Arezzo e Fiore Congressi a riconquistare un ruolo importante dal punto di vista del luogo espositivo. E adesso andiamo in Valtiberina. E45, Tiberina 3 Bis, la Valtiberina ostaggio di una viabilità inesistente. Urgenti interventi risolutivi e definitivi. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri che insieme alla senatrice Simona Petrucci ha effettuato sopralluoghi lungo l'arteria. Un incontro organizzato dalla consigliera comunale provinciale Laura Achieli con il presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Sansepolcro, Salvio Zoi incontrando a Pieve Santo Stefano il sindaco Claudio Marcelli. Sulla E45 i lavori procedono ma si deve accelerare per farci trovare pronti la prossima estate. Una E45 dove si continua a fare slalom tra i cantieri crea ripercussioni non solo per le aziende e i residenti ma anche per i flussi turistici, sottolinea appunto Veneri. L'annosa questione dei lavori sulla E45 crea pesanti disagi da oltre 20 anni. Il sindaco di Pieve Marcelli farà pervenire al più presto una relazione dettagliata alla senatrice Petrucci che verificherà se sono stati stanziati dei fondi ad hoc nella manovra economica e porterà la questione sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture. Alla provincia di Arezzo sono stati formalmente assegnati i primi 5 milioni di euro. Successivamente il Ministero dovrebbe trasferire in diverse tranche altri 35 milioni, lo conferma appunto Veneri. E adesso apriamo la pagina dedicata agli eventi culturali al Teatro Petrarca in concerto il pianista russo Volodos. Parte così la stagione concertistica a Retina. Vediamo il servizio. Il grande pianista russo Arkady Volodos, protagonista del primo appuntamento del 2023 nella stagione concertistica a Retina. Il maestro Volodos si è esibito al Teatro Petrarca con una dedica omaggio alla pianista spagnola Alicia della Roccia che ha lasciato al pubblico interpretazioni memorabili della musica iberica per pianoforte. Il programma ha così avvicinato la cultura d'origine sia della dedicataria che di Volodos accostando le magiche iridescenze della musica del catalano Montpou e il visionario pianismo tardoromantico del Moscovida Scriabin. Prosegue così la stagione concertistica a Retina promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dal Comune per la Direzione Artistica di Giovanni Andrea Zanon. Tanti gli appuntamenti in programma che andranno avanti fino ad aprile alternando una serie di concerti di musica classica e sinfonica di altissimo pregio nazionale ed internazionale. Dopo Volodos il 7 febbraio toccherà al discusso concerto della soprano Anna Netrebko confermato nelle ultime ore dallo stesso primo cittadino Alessandro Ghinelli. Ancora spettacolo perché alvia una serie di eventi teatrali all'interno del Museo Archeologico di Arezzo. Vediamo. È un modo nuovo di vivere il museo, un museo che va in scena, con le cui sale, i cui reperti, vivranno insomma un momento diverso dal solito, tutto speciale con la possibilità per gli spettatori di vivere veramente un momento unico. È incredibile vedere una coppia così ben formata. Sarà il mio capolavoro questo. Le sale del Museo Archeologico Gaio Cigno Mecenate di Arezzo diventano palcoscenico inusuale prestato al teatro. Nelle pieghe del tempo, questo è il titolo di una nuova rassegna teatrale che si svolge proprio tra le teche del Museo Archeologico Nazionale. Non ritengo non vergognoso comparire in pubblico nude. Dunque, per quello che riguarda il periodo che abbiamo scelto per aprire questo bellissimo nuovo momento di collaborazione con il museo, è il periodo etrusco, dove la donna aveva una libertà mentale e un'autonomia rare, rarissime, nel mondo antico. E di questo abbiamo voluto parlare creando una pièce completamente originale che valorizza i reperti del museo mettendo in sinergia il teatro e appunto la storia. Allora, voi proseguirete per altre due settimane oltre questa? Questa è la prima e poi ci saranno altre rappresentazioni itineranti, ferme nello spazio, diverse, per la regia di Uberto Covacevic il prossimo sabato, Andrea Biagiotti, a seguire per altri sei incontri. Sono i nostri allievi dei corsi avanzati, allievi di età diverse, che vanno dalle medie superiori fino agli adulti e che fanno teatro con noi da più tempo e che ostinatamente così continuano a calcare il palcoscenico e a vivere questo sogno in Libera Accademia del Teatro. E adesso come di consueto passiamo allo sport, nuova giornata di campionato per l'Arezzo. Domani si affrontano le prime quattro della classifica e gli Amaranto sono attesi da una trasferta difficile contro il Gavorrano. Indiani a tutti disponibili tranne il neoacquisto Persichini. Ascoltiamolo. L'Opa non esiste, l'Opa non esiste più. Ci è dispiaciuto perché, come ho detto giustamente, è bruciante. Perché meritavamo un minimo di andare a calci di rigore, minimo. Però è andata così, basta, è chiuso. Nessuna conseguenza di ordine psicologico, assolutamente. Sarebbe incredibile se ci fosse. Come ho detto ai ragazzi, come ho detto, dopo la partita d'andata, Organico, Gavorrano, sicuramente è una delle migliori, senza ombre di dubbio. E ritengo la partita domani, se non la prima, la più difficile di tutti da qui alla fine dell'anno, senza togliere la pianese. Ma veramente è uno scontro importante perché li consideriamo noi e, come dice l'andata, vincemmo. Insomma, ero convinto di trovarla a lottare fino alla fine con noi, come succederà, penso più o meno, perché veramente sono una scuola forte. Dopo di vista ne mancano ancora 15, però è importante sì, perché adesso affrontano le prime quattro della gradatoria, la stessa domenia, tra di loro. È importante, speriamo si verifichi, la vittoria è nostra, il resto non mi interessa, però, nell'ipotesi, la vittoria delle prime due, è chiaro, è importante perché poi tu potresti ipotizzare la lotta per la vittoria finale solo a due. In presenza di altri risultati, credo, rimarrebbe sempre tutta aperta a quattro, se non a cinque o sei, con quelle che sono vicine. Nell'ostituzione della squadra che abbiamo fatto l'estate, io ci credevo molto perché io credo molto che gli esterni entrano dentro i loro piedi e possano concludere. Estando, purtroppo, è successo pochissime volte, però ecco, io da un giocatore mi è convinto che, credo, all'inizio dell'anno è andato sui piedi dentro, minimo, 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 una vendicina, venti volte. E mi aspetto a chi go da là, che sicuramente gli è andata male perché parate il portiere, pali, fil di palo, cioè, l'esterno a piede invertito non è un abominio tattico, ci può stare. E dopo quasi un mese di sosta, le ragazze a Maranto tornano a giocare in campionato. Al Comunale, nella tredicesima giornata di campionato di Serie B, arriva il Napoli femminile, attualmente secondo in classifica a due punti dalla capolista Lazio. Per le ragazze di Mister Testini è la prima partita ufficiale del 2023. Il servizio. Credo che dopo tante partite era giusto che il campionato si fermasse, che le ragazze fosse uno stop, come in tutti i campionati sia di maschi che di donne c'è bisogno di recupero. Le ragazze comunque hanno lavorato anche sotto il periodo delle festività, abbiamo cercato di mettere un po' di lavoro nelle gambe delle nostre calciatrici e abbiamo cercato di preparare la partita che ci sarà domenica nelle migliori condizioni possibili. Una partita, quella di domenica, che apre un tris impegnativo. Ci sarà Napoli in casa, poi Ravenna e poi la Lazio in casa. Ma al di là di questi tre impegni la sensazione è che da ora in avanti si apra un altro campionato. Sì, ma le partite, l'abbiamo sempre detto, dall'anno scorso sono tutte difficili, non è che ci sono partite semplici, quindi ogni partita va presa e affrontata nella maniera migliore e dobbiamo guardare settimana dopo settimana. Non è che possiamo pensare da qua a quello che succederà contro la Lazio. Dobbiamo prepararci per il Napoli, affrontarla nella migliore maniera possibile in casa da noi, cercando di fare la nostra gara e cercando di provare a fare una prestazione importante, perché sicuramente incontriamo una delle squadre pretendenti a vincere il campionato. Se dovessi scegliere un aspetto, quale aspetto migliorerebbe rispetto alla prima parte di campionato della squadra? Io credo che non è che ci sia un aspetto da migliorare, ci sia più di qualcosa da migliorare, le ragazze lo sanno, ci continuiamo a lavorare tutte le settimane, dobbiamo cercare di difenderci in maniera un pochettino più compatta, dobbiamo cercare di sfruttare l'occasione da gol quando si creano e cercare di concretizzare un po' di più. Poi loro lo sanno, tutte le settimane lavoriamo per questo, cerchiamo di migliorarci, ci vuole tempo perché purtroppo la categoria è una categoria diversa e cercheremo in questa seconda parte di campionato di fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. È tempo di mercato, la società immagina si sta muovendo in questi giorni anche su quel fronte, ci sono novità? Come avevamo detto ci stiamo guardando intorno, stiamo cercando di capire se c'è qualche ragazza interessante che può venire a completare l'organico, che può venire a migliorarlo e darci una mano in questa seconda parte del campionato, ancora ci sono 15 giorni quindi vedremo cosa riusciranno a fare, cosa riusciremo a prendere. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi ricordo che dopo di noi ci sarà ancora una volta Bobo 7 con Massimo Gianni che si occuperà del caro benzina. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.